Il giocatore che vi presento oggi ragazzi sicuramente vi sarà noto il cognome perché è un cognome un po' particolare ed è Ranocchia e non vi allarmate, non è né imparentato col giocatore dell'Inter né della stessa qualità del giocatore dell'Inter, parliamo di due talenti completamente diversi. Oggi vi presento Filippo Ranocchia che qualcuno di voi avrà visto già all'opera all'interno della Juventus primavera. Prima di ovviamente iniziare ragazzi dobbiamo chiarire una cosa, questo talento io lo considero veramente buono ma non lo considero per ora e quindi sto parlando per ora pubblicizzato come altri che abbiamo. Filippo Ranocchia ovviamente non per questo è scarso ma sicuramente ha mostrato meno rispetto ad ora e quindi andiamo a presentarlo. Filippo Ranocchia è un centrocampista che può svolgere il ruolo sia da mediano che da mezzala. In realtà ho letto che qualche anno fa faceva anche il trequartista, aveva un'indole prettamente difensiva, l'hanno spostato indietro e hanno tratto da lui la posizione di mediano e mezzala. Mi piace Ranocchia perché è un giocatore che seppur non sia molto grosso, infatti è brevilinio, è piccolino, è smilzo, è magro, è piccoletto eccetera eccetera, è un giocatore che sa usare molto bene il corpo. Allora alcune volte anche se non si è grossi, pure se si è piccolini, nell'andare a fare finte, nell'andare a posizionarsi all'interno del campo ci si può andare a confrontare con giocatori molto più forti e dotati. Quello che mi ha stupito di Ranocchia quando l'ho visto giocare è la capacità di tirarsi fuori da situazioni veramente molto particolari. È un centrocampista che secondo me è il meglio di se lo dà davanti alla difesa, come mediano classico che però ha uno spirito da playmaker. Cioè quando io l'ho visto giocare per la mia volta, lui stava al Perugia, la Juventus l'ha preso dal Perugia e ricordo di aver visto un paio di partite di sto ragazzo con lui che giocava davanti alla difesa. C'aveva questa visione di gioco veramente ottima, dispensava palloni. Lo vedevi che distribuiva a destra, a sinistra, poi andava indietro eccetera eccetera. Mi piaceva veramente molto. Ho detto ma chissà se la Juventus possa fare un tentativo per la primavera per questo ragazzo. Fatto stacca la Juve, poi l'ha fatto, l'ha preso, probabilmente ce l'avevo visto bene. Ed è un giocatore molto 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 interessante che tuttavia ha anche dei difetti. C'è il senso che adesso abbiamo giocato i pregi, abbiamo detto che ho ordinato, sa fare il playmaker, è bravo dal punto di vista diciamo dell'uno contro uno perché all'ancato in mezzo dal campo riesce ad esaltarsi, sa tirarsi fuori, sa avere visioni di gioco. Ma col problema di Filippo Ranocchia è che alcune volte durante la gara perde un po' di lucidità con la stanchezza. Cioè arriva al settantesimo con la lingua da fuori qualche volta, la lingua di fuori. E' una cosa assolutamente che va migliorata a livello di resistenza e concentrazione. Io credo che se lui avesse un po' più di mentalità, un pochino più di concentrazione, ne staremmo parlando molto di più. Voglio che si parli di questi ragazzi che vengono messi in ombra da altri colleghi un pochino più, diciamo, un pochino più forti mediaticamente. Perché sono ragazzi validi. Io onestamente Ranocchia lo vedo un buon talento. Non è che sia un fenomeno. Non è a livello di unicolussi caviglia, secondo me, e ancora sotto a gente come Fagioli. Ma a 18 anni, ragazzi, non possiamo sapere fra due o tre stagioni come va questo ragazzo. Potrebbe essere tra due o tre stagioni questo esplode e diventa un centrocampista comunque di buona qualità. Vi ho detto che può fare più ruoli perché, oltre a fare il mediano, può fare anche la mezzala. E da mezzala io ho notato una cosa importante. Lui è bravissimo nella fase offensiva. Cioè è uno di quelli che si inserisce. Va davanti, dribbla, va davanti, sempre davanti, sempre davanti. Ed è anche equilibrato nella fase difensiva. Ma allora perché qualche minuto fa ho detto che mi piace di più da mediano? Perché io trovo che il suo modo di essere, di interpretare il gioco, sia più da mediano che da altro, semplicemente. Lo trovo un giocatore più intelligente nell'andare a tramare il gioco, piuttosto che andarlo a, diciamo, finalizzare. Quindi è un giocatore che, anche se non segna molto, a me piace per questo ordine intero che ha, che all'interno del calcio, cioè all'interno dello sport, oggi è importante. Molte volte avete visto dei giocatori che non sono prettamente belli da vedere, però seppur non siano belli, sono dei giocatori che comunque, diciamo, sai, anche se non è bello, quel giocatore comunque è utile. Ecco, Filippo Ranocchia non è l'esatta rappresentazione della bellezza estetica, dal punto di vista ovviamente calcistico. Poi De Gustibus, per chi ovviamente è ragazza, non discuto, voglio dire. Dal punto di vista mio, me ne può fregare di meno, sono etero. Ma comunque, da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico, è veramente un bravo, un bravo giocatore. Ed è un giocatore che, secondo me, va assolutamente valorizzato in relazione e nel capire dove può arrivare. Perché se arriva lontano, non dobbiamo assolutamente farcelo scappare. Fatemi sapere.